Ciao a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato Oggi vi parlo dei due candidati vicepresidenti americani che stanno correndo insieme a Donald Trump e Joe Biden per la Casa Bianca Perché? Perché le televisioni americane faranno tre dibattiti fra i candidati presidenti, di cui uno è già stato fatto e un dibattito fra i vicepresidenti e sono, nello specifico, Kamala Harris per i Democratici che sarà il vice di Joe Biden e Mike Pence per i Repubblicani Il dibattito c'è già stato l'altro ieri Se leggete i giornali di sinistra ovviamente vi diranno che ha vinto la candidata dei Democratici che è stata brava, che è stata di qua di là Se leggete i giornali di centrodestra diranno l'esatto contrario che ha vinto Mike Pence, il candidato dei Repubblicani che l'ha sfaltata, che è stato il migliore e di qua di là Quello che andrò a fare io è farvi vedere invece un video che parla di Kamala Harris intervistata durante un programma televisivo dal giornalista che vedete qua sullo schermo del mio computer il quale le fa una domanda molto specifica Ora, lei come mai è candidata vicepresidente? Perché tutti e due i partiti, sia il Repubblicano che quello Democratico fanno le primarie in genere per decidere chi sarà il candidato presidente Lei era una dei candidati C'era anche Bernie Sanders, c'era altra gente Ora, durante le primarie si sono fatti anche in quel caso dei dibattiti pubblici in televisione in maniera che tutti gli elettori democratici vedessero i vari candidati e scegliessero tant'è vero che poi hanno scelto Joe Biden il quale a sua volta poi ha preso come numero due lei, Kamala Harris Il commentatore però gli fa presente scusami, ma durante i dibattiti televisivi tu non sei solo stata, voglio dire, critica nei confronti di Joe Biden verso le sue idee politiche ma tu sei andata sul personale perché tu hai detto che lui era uno che insomma, in qualche modo poteva essere uno che molesta le donne che tu quando eri bambina ha raccontato tutta una storia di quando lei era bambina alcune leggi fatte da Biden che è uno che fa politica ha 77 anni e fa politica praticamente da sempre alcune leggi che sono state firmate anche da lui potevano impedire a lei di avere un'istruzione normale e quindi lei si candidava a essere il presidente degli Stati Uniti contro un Joe Biden che se fosse diventato lui presidente degli Stati Uniti avrebbe fatto delle leggi per non far studiare i poveri cioè delle accuse gravi ma molto gravi molto serie e lui gli dice come fai tu adesso dopo tutte le accuse che hai fatto a diventare così amica e adesso siete amichetti risata isterica letteralmente era un dibattito cioè lei ha ripetuto per quattro volte la stessa cosa ha risposto era un dibattito ovvero ovvero io durante un dibattito televisivo come quello che è successo per esempio due giorni fa mi sento totalmente libera di dire qualsiasi balla di fare accuse completamente infondate salvo poi ritratto salvo poi ritratare tutto e dire sì sì io sono contenta di accettare l'incarico di vice presidente di Joe Biden perché lui è la miglior persona del mondo degli Stati Uniti e assolutamente è un grande questo è un politico cioè questo è un politico affidabile ora io come detto non l'ho guardato il dibattito che c'è stato l'altro ieri sera però non so se ho bisogno di guardarlo quando so già che uno dei due politici si sente tranquillamente tranquillamente moralmente scusata semente davanti al pubblico davanti alla televisione in diretta nazionale in tutti gli Stati Uniti pur di portare avanti la sua candidatura la sua ideologia e tu asa di bene era un dibattito io posso dire quello che mi pare durante un dibattito va bene anche fare accuse completamente a fasulle questa è Kamala Harris fra l'altro abbastanza triste per la televisione americana notare che ci sono giornalisti il quale invece di prendere la cosa molto seriamente e dire scusa ti sembra normale che io ti sto facendo notare un'ipocrisia totale fra te che gliene hai dette quante guarda adesso non sto cercare i video ma li potete trovare in rete gliene hai dette in una maniera veramente delle accuse pesanti tu prima hai fatto queste accuse e adesso ti metti a ridere sclerando e strelando era un dibattito era un dibattito ti sembra normale ti sembra serio tu pensi di essere un politico affidabile e invece no cosa fa il giornalista si mette anche lui a ridere allora va bene da essere un dibattito va bene così certo è chiaro è una televisione chiaramente clamorosamente spostata clamorosamente partigiana verso i democratici quindi qualsiasi cosa dico faccio un democratico per loro va bene però poi secondo me la gente un po' più seria un po' più critica un po' più nel mezzo non se le fa andare bene a queste cose e voi cosa ne pensate?